L'emergenza coronavirus ha reso indispensabile rafforzare le campagne di vaccinazione per ridurre le infezioni respiratorie nella popolazione e rendere più facile la diagnosi differenziale, cioè capire in modo tempestivo se i sintomi siano riconducibili all'influenza o al covid-19. Entro la metà di ottobre la campagna partirà anche nell'area Vasto 1. Ieri ai pediatri e ai medici di medicina generale sono state consegnate quasi 39.000 dosi sulle oltre 94.000 previste. A seguire questo percorso è il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur diretto dal dirigente medico Augusto Liverani. Le assistenti sanitarie del Dipartimento di Prevenzione stanno collaborando attivamente con i servizi farmaceutici territoriali per distribuire i vaccini ai medici di medicina generale. Le categorie considerate a rischio da circolare ministeriale sono gli oltre 65 anni, i soggetti a partire dai sei mesi di età che hanno delle patologie, gli operatori sanitari, le donne in gravidanza, i lavoratori addetti ai servizi di pubblico interesse e quelli a contatto con gli animali. Quest'anno però la normativa sia nazionale che regionale ha individuato altre due categorie. I bambini dai sei mesi ai sei anni e gli adulti dai 60 ai 64 anni anche senza fattori di rischio. Ciò serve per estendere appunto l'offerta della vaccinazione, limitare la circolazione virale, laddove i bambini sono spesso una sorgente di infezione importante. Chi dovrà definire le priorità di somministrazione? Sono i medici di medicina generale ovviamente che hanno in carico i pazienti a stabilire un ordine di priorità nell'erogazione dei vaccini. Ovviamente avranno la priorità i soggetti che hanno delle condizioni patologiche di rischio più importanti. Oggi sul tema si è svolto un incontro con la regione proprio per definire alcuni aspetti dell'imminente campagna vaccinale anti-influenzale. Dovrà essere individuata una data precisa per tutta la regione, noi presumiamo intorno al 12 ottobre. Un altro aspetto rilevante è che i medici di medicina generale non registreranno più le vaccinazioni su carta ma saranno forniti di un supporto informatico appunto per registrare le vaccinazioni e avere un report immediato ed efficace della pratica vaccinale effettuata. Per l'erogazione si tiene ancora conto dei drive point definiti in questo caso centri vaccinali aggiuntivi? Noi lo consideriamo, noi dell'area vasta 1, come un'alternativa nei casi in cui possiamo andare in difficoltà nell'erogazione dei vaccini. È ovvio che dovremo presentare un progetto all'Asur, un progetto dettagliato che definisca tutti i requisiti di sicurezza di questa modalità.